Una breve preghiera di intercessione gli uni per gli altri, con la quale anche chiediamo al Signore, lo Spirito Santo e l'umiltà, il dono di una grande umiltà, perché mediteremo una parola su questo. Allora ciascuno dice il proprio nome e dice pregate per me. Tutti rispondiamo Padre Santo benedicilo, benedicila e donagli la tua umiltà. Questo è un dono grandissimo per andare avanti bene nella vita. Sono Padre Amedeo, pregate per me. Padre Santo benedicilo e donagli la tua umiltà. Sono Giovanna, pregate per me. Padre Santo benedicila e donagli la tua umiltà. Padre Santo benedicila e donagli la tua umiltà. Andiamo a Daggio. Sono Padre Amedeo, pregate per me. Padre Santo benedicila e donagli la tua umiltà. Padre Santo benedicila e donagli la tua umiltà. Padre Santo benedicila e donagli la tua umiltà. Sono Paola, pregate per me. Padre Santo benedicila e donagli la tua umiltà. Padre Santo benedicila e donagli la tua umiltà. Mi chiamo? Rosanna. Pregate per me. Padre Santo benedicila e donagli la tua umiltà. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, meditiamo una parola dal Vangelo di oggi, Luca 18, in cui si racconta la parabola del pubblicano e del fariseo che vanno al Tempio. Abbiamo l'esempio del pubblicano che Gesù ha dita a noi, che si presenta al Signore come peccatore e lo implora così. Signore, abbi pietà di me peccatore. Signore, abbi pietà di me peccatore. Ecco, quando ci presentiamo al Signore, dobbiamo avere queste due qualità. L'umiltà verso di lui è la fiducia, perché anche se a volte siamo bravi nella vita, onesti, però di fronte alla santità di Dio, alla purezza di Dio, al suo amore immenso per noi, eccetera, siamo sempre un po' poveri e mancanti. Ecco, quindi l'atteggiamento giusto davanti a Dio è questa umiltà, questa umiltà, anche se appunto facciamo delle cose buone e non facciamo tanti peccati gravi, andare con l'umiltà. E poi alla fine Gesù dice Chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Diciamo tre volte Chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Ecco, in questa frase il soggetto sottinteso è Dio. Chi si esalta sarà umiliato da Dio e chi si umilia sarà esaltato da Dio. Quindi questa è una virtù importantissima nella relazione con Dio e poi ci aiuta anche nella relazione con gli altri. Ecco, non l'umiltà depressiva che ci deprime, ma l'umiltà semplice che è verità e che ci dà la forza di amare senza troppa difficoltà. Quando uno è umile ama con facilità, quando noi siamo orgogliosi è difficile amare. Adesso vi benedico. Il Signore sia con voi. Con il tuo Spirito. Ti ringrazio Signore per la vita di questi tuoi figli che benedico nel tuo nome. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Vi auguro una Santa Domenica. Grazie. E scusate un po'